Non per me sola ha due significati, direi. Innanzitutto perché chi si occupa di donne e di storie delle donne non lo fa per sé, lo fa per un obiettivo che non è solo quello scientifico e storiografico, lo fa perché crede che ristabilire una diversa narrazione della storia significa anche aiutare le donne nel loro processo di emancipazione e di crescita, di empowerment. Ho voluto raccontare la storia delle italiane attraverso i romanzi delle scrittrici. Beh, le scrittrici non hanno scritto per sé stesse da sole, hanno raccontato un mondo che non era affatto scontato. Perché raccontare la storia delle italiane partendo dai romanzi delle scrittrici? Beh, perché i romanzi delle scrittrici hanno rivelato sin dall'Ottocento una storia femminile diversa, diversa da quella narrazione ufficiale che voleva le italiane come delle spose sottomesse, come delle madre dedite al sacrificio, come delle donne che puntavano tutto all'amore e poi viceversa verso cui non si riconoscevano magari dei diritti oppure non le si lasciava libere di studiare, di esercitare delle professioni, ma si esercitava una protezione amichevole. Grandissime scrittrici e poi soprattutto alla fine confrontando il loro racconto con quello dei dati storici, con i dati statistici, è venuto fuori che avevano più ragione loro. E quindi non per me sola, anche perché nella parola sola c'è tanta solitudine delle donne italiane, per ribadire che non siamo state molto amate, ma siamo state molto più ribelli di quanto si voglia far credere. Non per me sola è edito dalla terza e fra l'altro è anche una parafrasi, e lo voglio ricordare, da una frase di ritratto in piedi di Gianna Manzini. Gianna Manzini in questo romanzo bellissimo parla di una bellissima figura che è quella del padre e questo per dire che ovviamente ci sono stati degli uomini diversi, ce ne sono sempre di più, e credo che queste operazioni servano proprio a questo, a dare forza non solo alle donne, ma anche agli uomini, perché un rapporto diverso fra uomini e donne si può costruire e questo rende senz'altro la storia migliore.